28 gennaio 2011, siamo a via Vittorio Emanuele e stiamo riprendendo le condizioni in cui si trova questa strada che già sta nel programma di riqualificazione. Possiamo notare le condizioni della strada della segnaletica. E di altre cose che non vanno. Mi sembra che stai giù? Sì, sì, sto riprendendo. Qua siamo a via Capoltano. Vediamo anche le condizioni della strada. Vediamo anche in via Capoltano, qua, anche fatte segnalazioni di come si trova la strada. Siamo tra il civico 4 e il civico 8. 8. e possiamo vedere anche la catetoia di via Capoltano il civico 4 la strada la spazzatura praticamente buttata non in orario a via Capoltano il civico 6 come si può notare ripeto via Vittorio Emanuele e via Capoltano grazie a tutti